GIMI5 è il salvanario digitale che aiuta le persone ad accumulare piccole o grandi somme e farle crescere nel tempo. Ognuno può impostare un obiettivo di risparmio e raggiungerlo in libertà. Puoi sempre risparmiare come e quando vuoi, impostare regole automatiche che ti aiutano ad essere costante o invitare amici e parenti a sostenere il tuo obiettivo. Il nostro obiettivo è aprire le porte al settore del risparmio gestito e formare una nuova generazione di risparmiatori smart. Sono già oltre 20.000 le persone che hanno iniziato a risparmiare e investire con GIMI5 e che hanno raccolto già oltre 20 milioni. La maggior parte di queste sono infatti millennials, cosa alquanto differente da quello che accade nel settore tradizionale. Essere parte del Fintel District ci offre la possibilità di condividere la nostra esperienza con quella di tante realtà giovani e dinamiche come la nostra. Inoltre ci offre la possibilità e l'occasione di essere parte del cambiamento e un atto nel nostro paese che iniziative come quella del Fintel District puntano a raggiungere, stimolando più che la competizione e la cooperazione nel settore. È ancora grande il gap da colmare tra l'Italia e altri paesi dell'Unione Europea e non solo. Però qualcosa si muove e il Fintel District è una dimostrazione. L'appoggio delle istituzioni sembra dare nuova linfa al movimento e quindi siamo fiduciosi che presto si possano colmare quelle lacune, soprattutto normative. Il discorso diverso invece più lungo è quello di colmare il grosso gap di alfabetizzazione finanziaria che ancora c'è in Italia. Il nostro obiettivo è quello di aprire GIMI5 anche a altri mercati. Stiamo guardando con interesse ad altri paesi e pensiamo di iniziare a ragionare su nuove opportunità all'estero già a finire di quest'anno. Sono tantissime le novità in vista per i clienti GIMI5. A breve infatti daremo la possibilità di accumulare i propri risparmi a partire dalle piccole e piccolissime spese di ogni giorno, andando a intercettare gli arrotondamenti di qualsiasi tipo di transazione. Daremo anche la possibilità di alimentare il proprio conto GIMI5 andando a inserire proprio realtà fintech presenti nel mercato, potendo dare così la possibilità di alimentare il proprio conto utilizzando anche altri sistemi di pagamento. E infine daremo la possibilità a tutti i nostri tenti di impostare regole automatiche e crearsi la propria dinamica di risparmio personale, andando a intercettare la vita di tutti i giorni e rendendo così il risparmio un'abitudine virtuosa. Grazie a tutti.